Musica Ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici oggi conosciamo un po' più da vicino il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, ben arrivato sindaco un sindaco che sicuramente non si annoia cominciamo subito dicendo le comunità montane che fine hanno fatto? hanno cambiato pelle e sono diventate Unione dei Comuni non UTI, UTI non mi piace come nome, come acronimo sono diventate Unione dei Comuni e il termine Unione per quanto riguarda la carnia ha anche un suo significato funzionano meglio? ha cambiato nome? sì dobbiamo farle funzionare meglio sicuramente ci sono gli strumenti per farle funzionare meglio sapere se funzionano meglio dovranno dirle i cittadini quello che stiamo facendo è mettere assieme dei servizi perché siano più efficienti, più efficaci e soprattutto la grande sfida è riuscire a fare politiche di sviluppo perché la legge consente al territorio di fare politiche di sviluppo qui non si tratta di essere pro o contro una riforma ma dire siamo in grado di dire alla regione ad esempio quale modello vogliamo per il nostro territorio e dove mettere i soldi basti solo un esempio fino a oggi e ce ne rendiamo conto come amministratori ogni sindaco poteva andare a fare la richiesta sulle varie leggi di settore e chiedere alla regione ci dai soldi per fare la palestra e capitava che lo facesse ogni singolo comune adesso questo non sarà possibile proprio perché non si potrà andare a fare richieste in ordine sparso dovrà essere il territorio, nel nostro caso la Carnia a dire ok qua serve una palestra, qua serve un lavoro di sviluppo sul agroalimentare e deciderlo noi e poi fare la proposta alla regione quindi quella è la sfida, decidere noi che sviluppo dare al territorio ecco che cosa non andava nelle comunità montane? ma non andava, ormai da anni erano commissariate quindi avevano un pilota automatico che ha come si può dire è rischiato di far morire un territorio per asfissia quando c'è una struttura che è abituata, suo malgrado, a fare l'ordinaria amministrazione è evidente che non può portare a nulla di buono per cui la decisione giustamente era o diamo un'altra missione oppure eliminiamole totalmente a me piace vedere cosa andava la comunità montana della Carnia parte da un discorso che è davvero antico la comunità carnica prima cioè in montagna o ti metti assieme o peggio che altre situazioni non riesci a portare avanti i risultati quindi mi piace poter dire cos'è che può andare e sono queste due cose la sfida della programmazione assieme che non è facile perché bisogna guarire dal cosiddetto mal di campanile però o così o se no non vi in possibilità di landenando non c'è ridotto senta Brollo, lei è sindaco dal giugno del 2014 prima faceva il giornalista ed era social media manager ecco all'epoca lei raccontava, criticava giustamente ma adesso che è passato dall'altra parte riscriverebbe, direbbe le stesse cose? grazie a Marta del locale Maialetto di Gemona grazie ma io vedo una continuità in quello che ho fatto io sono stato, io, ho sempre voluto parlare in prima persona però con un blog che avevo aperto mentre facevo il lavoro di social media manager che significa lavorare su internet, su facebook, su twitter per aziende nazionali e internazionali cosa ho fatto? io ho portato le telecamere nei consigli comunali adesso cosa si fa a Tolmezzo? primo in alto Friuli, in Carnia i consigli comunali via streaming quindi c'è una continuità quindi poi i cittadini possono vederli su internet andarle a rivedere dal computer di casa e quindi c'è una vocazione, la trasparenza che ho portato poi nell'azione amministrativa lavoravo su facebook, abbiamo aperto la pagina facebook del comune abbiamo, informiamo i nostri cittadini su whatsapp e quello è il tema partecipazione è arrivato prima dei grillini lei allora? sì, a Tolmezzo sì, sicuramente sicuramente, certo è un'operazione trasparenza? sì, trasparenza e partecipazione su quello abbiamo investito, investiamo e ci crediamo la gente partecipe ai consigli comunali a Tolmezzo? mediamente sì, mediamente come sempre molto spesso dipende dalle situazioni se c'è la variante al piano regolatore se c'è un qualcosa che tocca le persone sì, abbiamo un feedback, un ritorno sul fatto che comunque viene guardato su youtube quindi su internet per cui è un qualcosa davvero di interessante che aiuta anche mettiamo anche con la curiosità per andare a vedere cosa ha detto il tal consigliere comunale qual è stata la replica il momento più pepato però serve, serve e ha un riscontro senta, in questo trasmissione abbiamo incontrato politici di vario spessore con diversi incarichi ma lei mi può confermarmi che forse i sindaci sono pagati troppo poco rispetto alle responsabilità che hanno ma allora se io vado a vedere io come sindaco di Tolmezzo dovendo poi farmi la pensione io ho una media pagando solo, escluso l'Ir per di netto che va dai 2004-2005 adesso faccio io la media perché vai dai 2003-2008 al mese dai quali però devo togliere per pagarmi poi la pensione nella mia cassa giornalisti vorrei evitare di andare a fare del polemico dei confronti tra i sindaci, i consiglieri regionali se ci mettiamo certo che adesso io sono presidente anche dell'Uti che abbiamo detto chiamiamo la Unione dove lavoriamo gratis lì siamo gratis per cui ci sono delle responsabilità io non ne faccio una questione di paga più o meno giusta perché non l'ho presa proprio in considerazione dico solo che fare il sindaco di per sé stacchiamolo dai soldi è un qualcosa che sempre più ti porta delle responsabilità ma lei mette firme pesanti certo ma non è che questo qui sia ripagabile e gli dici prendi 5.000 euro ne prendi 10.000 no non è la cosa che mi sta più a cuore è far comprendere assieme agli altri colleghi sindaci quali sono uno le responsabilità che hanno i sindaci e svincolarlo dal discorso dei soldi non è che è lì il riconoscimento certamente se vai a valutare quali sono le responsabilità quali sono le possibilità più o meno di incidere sulle politiche ci sono diverse persone che dicono ma chi te lo fa fare sei impazzito sei per così poco guadagni hai un comune che ha 18 milioni di bilancio 190 dipendenti e dicono no io quel conto non lo faccio non deve esserci una compensazione su quello perché non è sono due piani differenti la compensazione è quella di veder riconosciuto un ruolo politicamente amministrativamente e soprattutto la responsabilità che ha questo ruolo ma è politica di servizio questa? e beh certo cioè alla fine qualsiasi scelta che compi devi vedere che effetto ha sui propri cittadini e quanti grazie ha ricevuto in questi due anni e mezzo? è un bel gioco a ping pong tra il grazie e le critiche perché da un lato abbastanza abbastanza ma dall'altro sei il sindaco sei come si può dire parafulmini come è normale che sia per cui dalla dalla buca della strada a chi ha fatto il sindaco lo sa benissimo a argomenti anche più più ampi sei sei tu il collettore di tutto ciò che non va e va bene ce lo prendiamo fortunatamente ci sono sono anche molte le persone che ti incoraggiano e che dicono grazie e questo è assolutamente più gratificante rispetto a a un aspetto economico ma i carnici come sono? sono riconoscenti? ditelo voi come sono i carnici i carnici beh carnici lo scriveva Gortani il senatore Gortani è quello che ha messo un articolo nella Costituzione che dice che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane per dire la montagna ha un dislivello di difficoltà rispetto alla pianura che è riconosciuto dalla Costituzione lo stesso Gortani diceva la nostra Carnia vive di lotte tra borgata con borgata paese con paese comune con comune e tutti i comuni contro Tolmezzo lo dico anche con una forma di ironia anche per sorpassare questa visione ma cosa succede? che è normale che la cosiddetta sedicente periferia sia contro il Fondovalle il Fondovalle contro Udine Udine contro Trieste Trieste contro Roma quindi se andiamo a parlare a vedere i Carnici direi che hanno un carattere una forte resilienza come tutti i montanari cioè mantenere viva la motivazione è una media litigiosità come tutti i campanili di montagna però più più li conosco più io vado a basarmi sulle persone che vogliono guardare il futuro gli altri dicono ok voi non volete costruire il futuro ciao no ciao non siete d'aiuto ma senta ma quindi quello che diceva Gortani è stato rispettato o no? quindi questa opera di sostegno alla montagna ah beh allora si su certi aspetti si su altri io penso che ci sia una bisogna affrontare dal punto di vista proprio europeo la cosa io adesso sono tornato da una settimana di studio è di confronto con gli altri colleghi delle Alpi in Germania per gli stati generali delle Alpi che si tengono ogni quattro anni e quello che è venuto fuori è che la montagna non ha le difficoltà insuperabili nell'orografia perché è tutto superabile al giorno d'oggi con la tecnologia con le infrastrutture quindi se andiamo a vedere non è quello lì l'essere di serie B è riuscire a portare avanti politica a favore delle genti di montagna senta Brollo in un minuto dobbiamo dire c'è un riconoscimento per Tolmezzo no? sì beh Tolmezzo sarà città alpina dell'anno 2017 non è una una coccarda che si mette al petto e io voglio evitare assolutamente che sia accademia cioè fare l'ennesimo convegno l'ennesimo discorso no qualcosa di molto concreto noi partiamo dalla concretezza di un piano di ristrutturazione e riqualificazione della caserma cantore per il quale stiamo lavorando e lo sveleremo il prossimo mese anche assieme a altre 4 cittadine europee partecipanti a un progetto che sarà pilota per tutto l'arco alpino e poi ovviamente delle manifestazioni per il turismo ma poter dare uno un campo base per i nostri produttori agricoli l'agricoltura di montagna e l'agroalimentare due ovviamente per il turismo e tre tutta una serie di azioni che tra il 10 e il 12 di novembre andremo ad annunciare perché è proprio il programma per il prossimo anno Brollo grazie buon lavoro grazie a voi stammi bene grazie a Giancarlo Vergili adesso linea al nostro telegiornale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.